Il futuro della Teate Servizi e la partecipata del Comune di Chieti fallita e dei suoi 25 lavoratori è nelle mani del Tribunale di Chieti. Intanto prosegue lo stato di agitazione indetto dai sindacati a tre settimane dal fallimento della società. Ieri si è svolto l'incontro sul futuro della Teate Servizi tra il prefetto di Chieti della Cioppa, il sindaco Ferrara e il curatore fallimentare Guglielmo Flacco e i sindacati che dopo il fallimento della società partecipata chiedono di salvare i posti di lavoro e di riattivare il servizio e dell'incontro non sono per nulla soddisfatti. Il primo cittadino punta intanto a internalizzare il servizio parcheggio e spera nell'affidamento urgente a un'altra società per la riscossione dei tributi ma sarà il giudice a dover dare il nulla osta all'esercizio provvisorio che il curatore fallimentare è intenzionato a chiedere. Smeraldo Ricciuti, segretario regionale COFSAL, funzioni locali. Purtroppo come organizzazioni sindacali non ci siamo ritenuti soddisfatti dell'esito dell'incontro in quanto non c'è una data certa di riavvio per i lavoratori di poter rientrare nell'interno del posto di lavoro e ovviamente di iniziare con la riscossione dei tributi che al momento è completamente ferma. Ma si è parlato di internalizzazione? Il sindaco ha detto che c'è una remota possibilità di internalizzare il solo servizio dei parcheggi. Certo è che bisogna attendere l'esito del curatore se chiederà o meno l'esercizio provvisorio ma anche se dovesse chiedere l'esercizio provvisorio il curatore ha detto che con molta probabilità non c'è spazio per riassorbire tutti i dipendenti. Allorché noi nell'eventualità ci dovesse accadere abbiamo chiesto che venga usato un contratto di solidarietà. Questo permetterebbe di ridurre un po' le ore di lavoro a tutti e quindi di far lavorare tutti. Però adesso tutto sembra dipendere da questa richiesta. Noi abbiamo ingalzato l'amministrazione per avere un tempo certo nell'eventualità di poter affidare ad altra società in via urgentissima questo servizio che è fondamentale, è un servizio di pubblica utilità per la città di Chieti, non solo ma visto e considerate che le casse comunali del comune di Chieti sono in dissesto permetterebbe l'introito dei tributi. Grazie. 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 Grazie.